salve e ben ritrovati finalmente nel 2021 l'anno scorso la nostra parola chiave come ben saprete e ormai potete vedere dal nostro numero del ponte è stata la resilienza e ci auguriamo come camera di commercio che possiamo continuare ad avere questo nostro motto insieme oltre all'insieme per crescere noi siamo qui nei nostri nuovi uffici come pensatrete al nono distretto di budapest in ogni usa 18 a dove siamo pronti a ricevervi sia in modalità fisica per vi appuntamento da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 oppure in modalità rimota cosa accadrà a gennaio il 21 al 28 gennaio avremo due utilissimi webinar e a brevissimo riceverete le informazioni tramite la nostra newsletter e anche quest'anno come camera di commercio ci teniamo a farvi conoscere quello che è la nostra operatività e cosa intendiamo fare nell'anno che si è appena aperto infatti durante la prima settimana di febbraio vogliamo illustrarvi qual è il nostro programma per l'anno che si è appena aperto come di consueto anche quest'anno la camera di commercio presenterà ai propri soci il planning 2021 quindi informeremo tramite la nostra newsletter delle due giornate una dedicata ai soci ungheresi e l'altra dedicato ai soci italiani quindi non mi resta che augurarvi da parte della camera di commercio un fruttuoso 2021 e come sempre a vostra piena disposizione perché noi nell'insieme per crescere ci crediamo davvero a tre